È pronta a stupire in televisione nei prossimi mesi Dopo il ridimensionamento nei confronti di Barbara D'Urso, Mediaset ha deciso di puntare su di lei e su Silvia Tolfanin per la domenica pomeriggio di Canale 5 La cantante sarà protagonista con la trasmissione scene da un matrimonio, di cui comunque si sa ancora molto poco La stessa diretta interessata ha preferito non esporsi più di tanto in una recente intervista, anche perché tutti i dettagli sono ancora in fase di perfezionamento Grosse novità per lei non ci sono solamente a livello professionale e dunque televisivo, ma anche in quello privato Si è parlato con insistenza di un suo possibile fidanzamento con il rapper Livio Cori, ma ecco che è spuntata fuori adesso una notizia completamente diversa Avrebbe infatti un altro corteggiatore, che non la starebbe mollando un secondo nella speranza di iniziare il più presto possibile una relazione sentimentale E si tratta di un uomo importante, che fa parte del mondo che conta Ha alle sue calcagno una persona decisamente influente e importante, che starebbe facendo di tutto per conquistare il suo cuore A riferire tutte le informazioni in anteprima è stato il giornalista Alberto Dandolo, il quale ha scritto la notizia nella sua rubrica Pillole di A saperlo! del settimanale Oggi La nuova conduttrice Mediaset potrebbe ben presto legarsi sentimentalmente, se dovesse ufficialmente cedere a queste avanzi sempre più insistenti e determinate Secondo Dandolo dunque, avrebbe fatto perdere la testa ad un rampollo di una famosa famiglia di Milano Si sarebbe ormai cotto di lei e vorrebbe fare di tutto per riuscire a fidanzarsi con la donna Al momento, non è dato sapere il suo nome e cognome, ma molto probabilmente nei prossimi giorni se ne saprà ancora di più Prima della conduzione di scene da un matrimonio la troveremo impegnata Non resta che aspettare un po' e vedere come si evolverà la situazione amorosa Leggi anche! Questo quanto raccontato da sul suo futuro lavorativo alcuni giorni fa, di scene da un matrimonio non posso dire ancora nulla perché non c'è ancora nulla di sicuro, non so neppure la data di partenza È ancora un embrione che si sta sviluppando Abbiamo tante idee, vedremo quale forma prenderanno Comunque racconterò molto anche me stessa Vedremo dunque da settembre cosa proporrà Grazie a tutti! Grazie a tutti!